Ciao a tutti, sono qua per un altro Robby Seiz, la recensione di un trailer un trailer che è orgoglio per i giudizi, qualcosa che non ho capito esattamente che che diavolo sia, comunque vediamoci questo trailer, splay, play questo lui, fantossi, cos'è fantossi? Sony, ma Sony non fa le macchine fotografiche della prestigio, la peste nera, chiamala la morte nera, non c'è la peste nera c'è solo una di nera della morte, saturday a lei, Michael Jackson, a lei! No, ma delle frasi fatte incredibili! Gli zombie! Sì! Sì, magari a combattere, combattere, va bene, banale, banale! Sì, ma cosa avete fatto il peeling? Lì siete tutti grabberi, cos'è quella roba lì? Il dottore! Uttone il dottore, l'undicesimo dottore! Sardo del bambino d'oro! Ma chi sei? Sardo del bambino d'oro! Ehi, ragazza, un topolone, cosa dici? Che non te ne frega niente! Mi lascia il peda, mi schiava di lè! Puttana il cotellato lì nella giarritiera! Alì! Beh, sei l'unico, sì, diventi invisibile e fai delle grandi slab invisibili! Tutti fighi, cos'è questa figheria? Fammi vedere dalla barba, della puzza! Puttana che non ci eravamo! Non c'erano neanche il bidet, santo Dio, dai! Sì, quella roba schifosa, dai! Gli zombie senza gli occhieria! Chi dai? Buttala lì, è topo però! È tupissimo, madre, santo Dio! Sguardala lì, ma chi sei, santo Dio, Giango Fett? Ma se sei figo, ma la barba lì, ma cos'è quella roba lì? Saruman con quella picca lì, ma chiss'era cos'è quella roba lì? Guarda! Volevo ho sprecato la faccia! Buttala, ma... Slapia, macconi! Da! Che vuoi, la madre? Ma sono... Super splatter questo Finns! Ma cosa chiama? Dannatamente romantico, ho raccontato il sangue, tranne un pistolamento di sangue dappertutto! ma caccia in bocca puttana non so l'ha per cacciata in bocca della figa pipizzetta ma che cos'è? un file compresso pipizzetta ma cos'è? o zombie, prezionizio, orgoglio, punto, pipizzetta ma cosa sei? un file compresso dura 5 minuti oppure ha una definizione bassissima ma sotto dio ma sotto dio ma sotto dio